Buongiorno! Buongiorno! Eccolo! 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 C'è un cammino! Ti piangi? Si è commosso! Eccolo eh! Guarda quanto è commosso! E non è niente? Non sei contento? Sto attento per tutti i minuti! No! Guarda! Non è niente! Guarda quanto è contento il coccodrillo! Oh! Anche la signora coconfiocca eh! Tutto un pianto stamattina! Guarda! Guarda! E' un uomo! Fai facendo il conto alla rovescia! Vero? Fai facendo il conto alla rovescia! Guarda! Ehi! Che vuole! Dammi niente! Manca un bacio! Ma tu a te che stai sentendo tutti i minuti! A me l'avevo un bacetto! Meglio! Meglio! Ma l'ho giotto ancora! Oh! E mancava questo! Più questo che il bacetto eh! A lei ride per il coccodrillo! Bello! 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 Una cosa che vuoi dire! E ora la dicevo! Sono antisismici? Eh? Ah! Sono antisismici o no? Oh! Incomincio a sparecchiare eh! Sono antisismici? No! Ho messo tutto a posto per bene! Meglio a sparecchiare da prima! Ma sono antisismici o no? Questi? Beh! Che c***o! Che c***o! Che c***o! Che c***o! No! Ma perché? Non mi fai arrabbiare! Vabbè ora sta calmo! Sta calmo! Sta calmo! Mi piace questo taschino! Chissà! Sì! Mi piace questo taschino! Salute! Vai! Salute! Salute! Vai! Salute! 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 Attenzione! Sembrava una giornata di agosto abbastanza calda! Ma si è riannuvolato e sta nevicando! La sta facendo dappertutto su tutte le cime dell'Appennino delle Alpi delle Dolomiti ma anche... Nel... Mi sono puntato anch'io! Attenzione! Nevicato! Incredibile! Sta nevicando! Riaprono tutte le scritte! Sei giovane! Riapri tutto! Riapri tutto! Riapri tutto! Riapri tutto! Riapri tutto! Ha nevicato! Ma guarda quanto ha nevicato! Dai! I chilometri ignofatti! Quantifica un attimo le quantità sono mancavate uno! Oh! Basta che te levi di c***o eh! Ma sto per... Madonna mia! Mi sta vicino a te! Ma tu già cominciati qui con questi cappelli intorno al muro! L'avete chiesto del gattino! Eccolo! Sta crescendo bene! Ecco! Lo stiamo nutriendo! Ecco! Ancora non sappiamo come chiamarlo però! A me piace a sto gatto! Come si chiama il gattino o no? Ma non ne so! Dai è il nomicino! Dai il gattino piccolo! Ma ma vuoi sapere? Dai! È il nomicino! Ma che seppia! Come lo vuoi chiamare? Avevo giubbastro! Il pennello lo vuoi chiamare? Avevo giubbastro! No le minacce no! Quanto ti son mancato da 1,575 a 100 mila 34 mila di euro? Sì sì questo è un numero che mette all'otto! Quanto ti son mancato da 1 a 150 mila di euro? Sì sì sì! Guarda! Quanto ti son mancato? Eh tanto! Quanto? Tipo quantificano perché io lo volevo! No! Con giubbastro! Le minacce no eh! Mi hanno detto un della macchina è stato lì! Dentro chiuso proprio! Eh! Chiuso dentro la macchina! Senza uscire! Bello ci venga anch'io! Perché l'altro io sono sceso! Andiamoci! Andiamoci! No! 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 Non lo so! No! No! Ma sei ingrassato mi pare un piccione! Ripieno! È un piano piano! Metà settembre mi rimetto giù! Divendo tanto grusso così! Sì! Sì! Così grusso! Così grusso! Così grusso!